Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due Sul Server 2 Bentornati ragazzi, oggi vogliamo dire due cosine veloci veloci Sì, allora sono esattamente due cose, proprio due cose La prima è che abbiamo un canale Twitch Sì, abbiamo un canale per i live, ci stiamo divertendo tantissimo a fare questi live E siccome c'è il vostro feedback immediato, quindi possiamo anche nel giro di 30 secondi Sapere se vi piace quello che stiamo facendo o non vi piace Quindi diciamo che è una cosa molto interattiva e ci dà veramente gusto Sì, ci sta piacendo e quindi ragazzi veniteci a trovare su Twitch Basta scrivere Quei Due Sul Server su Twitch oppure seguire il link che vi lasceremo in descrizione I live purtroppo adesso non hanno ancora una programmazione ordinata del tipo Lo facciamo tot giorno ogni tanto, però vi avvisiamo sempre Sì, avvisiamo su Facebook, quindi iscrivetevi pure a Facebook o Twitter Insomma, cerchiamo sempre di avvertirvi Una cosa importante, non ci saranno più le barzellette sui live Ve lo giuro, non ci saranno proprio più Però voi le richiedete sempre, quindi il cliente ha sempre ragione Come si dice, loro sono i nostri utenti che fa rima con clienti Tanto sono finite le barzellette No, adesso sono 200 pagine di monnezza pura Quindi io adesso sto leggendo quelle brevi Tra un po' leggiamo quelle lunghe che danno ancora più l'amaro in bocca Perché c'hai anche perso tempo a sentire Comunque sia, la seconda cosa di cui vogliamo parlarvi La seconda cosa di cui vogliamo parlarvi è di una cosa che ci è venuta in mente stamattina Abbiamo fatto questo video così ad cazzo, infatti ci vedete Sì, non abbiamo neanche la divisa Vestiti dei normali Perché vogliamo, ci piacerebbe, ci piacerebbe, ripeto ci piacerebbe Ci piacerebbe Commentare i vostri canali YouTube Dato che ogni giorno ci arrivano una ventina di messaggi Che ci chiedono Vedi il mio canale? Ti piace? Non ti piace? Dicci cosa non va bene Molti ci dicono Però aspetta, aspetta Fermi Fermi Non messaggi, non commenti Aspettate Aspettate Fino alla fine Aspettate Aspettate il video Allora, ascoltate Non scrivete Non mandate niente Questa cosa adesso non è partita Quindi noi adesso non la stiamo facendo Quindi è inutile mandare messaggi Che cos'è questa cosa che stiamo pensando? È una cosa, semplicemente Andiamo a vedere i vostri canali In live Oppure registrandoci E poi mettendo il video sui nostri canali Ok, questa è la cosa Diciamo se ci piace Diciamo cosa abbiamo trovato bello Cosa abbiamo trovato brutto Ma attenzione ragazzi Non è necessariamente pubblicità per il vostro canale Potrebbe essere anche un boomerang Esatto Quindi ragazzi Attenzione Noi ve lo diciamo Noi siamo stronzi Sul video, sull'audio Abbiamo determinati canoni Che vanno rispettati Altrimenti noi vi diciamo tanto male Quindi questa è una cosa ancora Che non è ancora partita Non sappiamo se farla partita Dipende da voi Quindi commentate Dicici se vi piace la cosa Se vi potrebbe piacere Se vi potrebbe interessare Non scriveteci Voglio che lo facciate sul mio canale Perché no Non lo facciamo Non lo faremo Non siamo ancora arrivati a questo punto ragazzi Vi stiamo proponendo un progetto Che ancora non esiste Se vi piace lo facciamo Ma per il momento Diteci solo se l'idea vi sembra carina o no Quindi commentate mi piace, non mi piace O mettete mi piace o non mi piace Chiunque spammerà il suo canale qua sotto Cercando di precedere gli altri in questa scelta Verrà non solo eliminato il commento Ma lo blocchiamo pure Perché ci stanno sul cazzo quelli che non guardano il video E scrivono prima di capire Ok quindi ci sarà un form In caso positivo Ci sarà un form sul nostro sito Che è qdss.it Dove dovrete inserire il vostro nome e cognome Il canale E dovete dare il consenso Per mettere online i vostri video Comunque la nostra critica Positivo o negativo sul vostro canale Attenzione Questa cosa qui sulla privacy Questo chiedervi il permesso Lo facciamo solo noi Perché su youtube tutti quanti Prendono i video degli altri Li sbattono sul proprio canale Gli dicono male Fanno i montaggi Noi siamo gli unici stronzi Che chiediamo il permesso Quindi Ok E' una cosa che facciamo per voi Però attenzione Noi siamo stronzi Lo ripeto io particolarmente Sono uno stronzo Quindi ragazzi Attenzione a quello che fate E attenzione Se la cosa andrà in porto Pensateci bene Ok ragazzi Potreste avere una brutta batosta Ecco Vi lasciamo ancora una volta Il canale twitch Qua sotto Eventuali riferimenti a facebook Quindi ragazzi Iscrivetevi Siete due tre mila Che guardate questi video Quindi andatevi a iscrivervi Per favore Così Sappiamo che Siete interessati magari anche ai live E ci fa tanto piacere Ciao Ciao